Ciao ragazzi, io sono Domenico Chiaravalloti e benvenuti nel mio canale e in questo nuovo video. Oggi parleremo del LuConnect, di un problema, anche se non è proprio un problema, più un problema potrebbe essere il piantone largo del quale parlo in un altro video che vi metterò qui nelle schede, ma è più un fastidio, di cosa sto parlando? Andiamo a vedere. Ed eccolo qua, LuConnect. Allora, a cosa mi riferisco? Questo fastidio, insomma, l'ho scritto anche su... ho fatto una domanda sul gruppo Facebook, e cioè la radio praticamente ogni volta che si accende l'auto parte e questo a lungo andare dà un po' fastidio. Cioè, ve lo mostro subito. Io accendo l'auto e ti parte la radio. Chiudiamo subito, casomai la musica e il copyright poi mi blocca il video. Allora, cioè, secondo me non dovrebbe essere così. In tutte le auto che ho avuto, qui vedete anche il porta smartphone che è comodissimo, se trovo il video ve lo metto. Questo secondo me è un problema, perché devo essere io ad accendere l'auto, cioè ad accendere la radio, e la cosa non deve avvenire automaticamente, perché a volte mi è capitato di, per esempio, di entrare in macchina, parlare con una persona dentro l'auto, o magari di fianco al finestrino, che succede? Accendi l'auto e ti parte a palla la musica, magari tornavi con i finestrini aperti, il volume è alto perché non senti, no? Mentre poi si presenta una situazione più tranquilla e ti parte la radio a palla. Alcuni dicono, per esempio, quando arrivi, spegni, così, quando riaccendi l'auto, quando riaccendi l'auto, praticamente la radio la trovi spenta. Ma a parte che anche questo vuole un qualcosa da parte mia, cioè anche io, cioè, dovevo fare ugualmente un'azione per questo, che farla quotidianamente dà fastidio. Ma poi io non posso sapere se quando arrivo a casa, cioè, se quando riparto ho voglia o non ho voglia che riparta la musica. Cioè, ripeto, a mio avviso devo essere io, o tanto meno, oppure, cosa succede? Se io spengo l'Uconnect e poi spengo l'auto, cosa succede? Che quando accendo l'auto, vedete, l'Uconnect, giustamente, come dicevano alcuni anche nel gruppo, l'Uconnect non ti parte. Però, che cosa succede se è così? Se io vado a mettere il telefono qui e qualcuno mi chiama, l'Uconnect è spento. Cioè, quindi, uno potrebbe dire, ma tu come lo vuoi allora questo Uconnect? Secondo me, la parte, cioè, dovrebbe essere di default, che, quale tipo di funzioni? Io accendo l'auto e si accende l'Uconnect, non la radio. Cioè, per Uconnect intendo lo schermo. Lo schermo si deve accendere. Così, se qualcuno mi chiama al telefono, io sento quello che dice, cioè, a parte il viva voce, è normale e rispondo. Se voglio la radio, premo e mi sento la radio. Non deve essere automatico. A parte, come vi dicevo prima, è un disagio. È un disagio che io accendo e mi parte la musica a tutto volume. Magari la situazione non lo richiede perché c'è gente, o è un luogo più tranquillo. Secondo me così è sbagliato. Quindi colgo l'occasione per vedere gli altri video riguardo alla 500X di iscrivervi al canale se vi fa piacere. Se avete domande a riguardo, un bel mi piace. Ci sentiamo nei commenti. Ciao, belli!